Buongiorno a tutti. Giovedì 30 maggio, come vi sto dicendo da alcuni giorni, sono giornate abbastanza critiche per i principali mercati azionari europei e americani. Diciamo che se non ci fosse il fenomeno invidia, che anche ieri ha toccato nuovi massimi storici, probabilmente anche Standard & Poor's 500 e Nasdaq si allineerebbero all'andamento del Dow Jones che di breve periodo, come abbiamo già avuto modo di vedere, è piuttosto negativo. In Europa sta partendo una fase di correzione e come vedremo tra poco anche i futures americani per il momento non lasciano presagire nulla di buono. Ieri è uscito il Beige Book, ha mostrato che l'attività economica negli Stati Uniti ha continuato a espandersi da aprile a metà maggio, però nella maggior parte dei distretti la crescita è stata debole o modesta. L'aumento dei prezzi è stato moderato, mentre l'occupazione è cresciuta a un ritmo debole con una crescita dei salari modesta. Quindi in realtà io continuo a non capire come ci sia questa ostinazione nel voler combattere l'inflazione quando a mio avviso si rischia veramente una stagflazione, come diceva già Jamie Dimon. Ma vedremo tra poco soprattutto il calendario economico perché oggi c'è anche il PIL americano che ha una stima piuttosto bassa all'1,6 per cui fare peggio è difficile, però sicuramente il market mover di giornata. Vi condivido lo schermo perché partiamo come nostro solito dagli indici americani, vedete come il Dow Jones stia continuando ad accelerare al ribasso, abbia perso la media mobile a 138,6 e 58 e sia avviato a livelli sicuramente, aspettate che la traccio un po' più spessa così si vede meglio, 37,8 e 95 e 37,7 e 80, poi minimo del 17 di aprile 37,611. Standard & Poor's 500, siamo sostanzialmente su un'area di supporto, il minimo di ieri è stato a 5.262, c'è da chiudere il gap lasciato aperto a 5.250 sul massimo del 14 di maggio, se devo indicare un target direi almeno 5.217 minimo di quella stessa seduta e poi media mobile a 50, 5.178. Nasdaq Composite, qui invece grazie a Nvidia soprattutto siamo ancora in una situazione di trading range compreso tra il minimo di venerdì 16,6,78 e 17,0,32 massimo, il minimo di martedì. Il Nasdaq 100 più o meno è nella stessa situazione con la differenza che c'è la candela benchmark e quella proprio di venerdì 18,5,54 di minimo, 18,907 di massimo. Proseguiamo con il Russell che ieri ha dato un segnale davvero molto negativo perché ha lasciato un gap aperto a 2.057, ha disegnato un Amaro Bozzo Black, 2.050-2.036, perdita della media mobile a 50, 2.045, primo obiettivo 2.030, poi media mobile a 100, 2.024, chiusura gap sul massimo del 2 di maggio, 2.016. Fuzzi Mib Futures, vedete come ieri abbia dato un segnale sicuramente preoccupante perché è tornato quasi sul minimo a 20 punti del 24 di maggio, 34,145 ha fatto un minimo a 34,165 e soprattutto sono aumentati i contratti, era da diverso tempo che non scambiavamo quasi 18.000 contratti. Primo obiettivo per me è 34,095, poi media mobile a 50, 33.962, quindi 33,6 e 95, 33,4 e 30, 33,2 e 85. Vi dicevo dei Futures, Futures, vedete DAO-090, Standard & Poor's 500-052, DAX 100-064, Russell 2000-056, leggermente meglio in Europa, però l'impostazione tecnica degli indici europei come abbiamo potuto vedere ieri è più simile a quella del DAO Jones già, quindi hanno già iniziato una correzione, DAX-021, Eurostoxx-040, in Asia, IK-050, Hang Seng-1,23, Singapore-024, Cospi-1,61. Andiamo a vedere il calendario economico di oggi, allora non ci sono in realtà tantissimi dati macro, ci sono anche alcuni dati macro che vedremo tra poco in Italia, però come vi ho già detto il market mover di giornata è indubbiamente il PIL americano. Andiamo a vedere i dati che usciranno in Italia alle 10, c'è il tasso mensile di disoccupazione per il mese di aprile, è previsto in leggera crescita, dal 7,3 e dal 7,2, alle 11 c'è l'indice di prezzi della produzione, quello annuale e quello mensile, però non ci sono previsioni, erano nella rilevazione precedente questi prezzi della produzione molto in calo, meno 9,6% e ovviamente la concentrazione di tutti gli investitori è per le 14,30 negli Stati Uniti il PIL trimestrale, rivisto pesantemente al ribasso perché da 3,4 all'1,6 e poi c'è sempre le 14,30 richieste di iniziali di sussidi di disoccupazione previsti in leggera crescita a 218.000 da 215.000, questi sono i due dati più importanti, poi a 17 ci sono le scorte di petrolio greggio. Veniamo adesso alle notizie price sensitive, partiamo ovviamente dal tema più importante che è quello di Pirelli, c'è questo fulmine a ciel sereno perché comunque il titolo era come avevamo già visto in questo trading range tranquillo addirittura sui massimi di periodo e nulla faceva pensare che ci potesse essere una BB da parte di questo fondo cinese Sikrod che è azionista al 9,02% che è uscito dal capitale di Pirelli tramite una BB. Sono 90,02 milioni di azioni pari all'intera partecipazione, non è stato ancora indicato il prezzo preciso, c'è un range tra 5,69 e 6,19 quindi vuol dire un incasso tra 560 e 600 milioni di euro. Al prezzo minimo della forchetta rappresenta uno sconto dell'8% sul prezzo di chiusura. Collocamento coordinato JP Morgan, Bank of America, HSBC. Il titolo ha perso quasi 5% in after hour e i volumi sono stati sicuramente anomali. Quindi questa mattina è altamente probabile che vada a print up down, vada direttamente sotto la media mobile a 50, 5,92 e poi si porti eventualmente a 5,85, 5,76, 2, 5,72, 8. Quindi situazione da monitorare e massima prudenza sul titolo. Poi ovviamente c'è un ritorno da parte delle agenzie di stampa su Montepaschi. La notizia è quella che vi ho già riportato ieri. EGIP di Milano ha ordinato alla Procura nuove indagini per un reato di truffe e danno stato in relazione ai 5 miliardi di euro di recapitazione nel 2017. Purtroppo io credo che non sia finita qui, dovrebbe tornare sulla media mobile a 50, 4,48 e mezzo, poi 4,37, 1, eventualmente 4,27, 1, minimo del 23 di aprile. Poi c'è una notizia di Terna che ha sottoscritto con l'intesa San Paolo una linea di credito revolving legata a indicatori ISG per ammontare il complessivo di 250 milioni di euro, ma non è sicuramente un finanziamento così significativo per un titolo come Terna. Siamo in tali di mangi tra 7,54 e 7,73 e 2. Concludiamo con Stellantis. Per il momento il primo livello importante è 20,045, però il punto di non ritorno è ovviamente il minimo di periodo dell'8 di maggio, 19,648. Quindi titolo ancora in trading range tra 19,648 e 21,57, io ho più o meno un prezzo meno di carico sugli attuali livelli, mi chiuderò solo se dovesse perdere 19,648. Con questo concluso auguro a tutti buon trading, come vi ho già detto ieri, oggi, Class NBC non avrà il solito palinsesto del blocco trading, ma c'è un sustainable futures, io sapete come la penso, credo che soprattutto quando i mercati sono in fasi così delicate, andrebbe dato maggior spazio all'operatività perché comunque il resto, fatemi citare il califo, tutto il resto è noia. Auguro ovviamente a tutti buon trading e ci risentiamo questa sera dopo la chiusura del mercato di euro.